Quasi 9.000 partecipanti nelle due giornate del ventesimo trofeo internazionale di Judo, città dell'Aquila. Una delle più importanti manifestazioni a livello nazionale dello sport del Judo. Le gare si svolgono nel palazzetto della scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito. All'interno dell'evento sportivo, infatti, c'è anche il Memorial al Brigadiere della Guardia di Finanza, Augusto Desideri, organizzato dalla S.D. Amiternum Judo L'Aquila. Augusto Desideri è stato un pioniere del Judo nella città dell'Aquila per far superare il pregiudizio di uno sport violento ed insegnare la disciplina di uno sport così culturalmente avanzato. Uno sport che ha alla base una forte disciplina e autocontrollo. Il ventennale del trofeo, la qualità dello sport praticata in un palazzetto a lui intitolato, sono un premio alla caparbietà di mio padre, ha detto la figlia di Augusto, Barbara Desideri.